ciao popolo era tanto tempo allora facciamo subito un video l'attanto l'avete visto dal titolo oggi famolo strano oggi mi voglio calare nella parte di chi al primo rasoio e alla prima filatura voglio vedere un po mi voglio divertire a fare il principiante magari esce fuori qualche cosa di buono ma come al solito aspettate lo sapete ormai che c'è la sigla eccome qua allora oggi oggi sono il principiante ho comprato il mio primo rasoietto su ebay ho risposto all'annuncio sul mercatino un carino che cos'è colombi che qualche tempo fa forse era un 6 ottavi adesso un pochettino più scarso però è carino mi piace io per quello l'ho comprato però però sono stato bravo mi hanno detto prima di comprare di controllare l'allineamento la costa e allora io un po i compiti a casa le ho fatti il filo mi sembra che sia abbastanza rettilineo anche l'usura della costa la vedo abbastanza uniforme e allora io so che ho fatto il bravo ho studiato ho letto un sacco di poste ho visto i film adesso cercherò di metterli in pratica per la prima volta quindi diciamo che l'acquisto già sono stato bravo ho controllato quello che almeno si poteva controllare in foto consumo uniforme filo bevel sottile e uniforme anche quello io non lo so come è stato affidato se col nastro se senza nastro non so però sai che c'è io per sicurezza la prima affidatura me la faccio con il nastro magari per avere più possibilità che il filo tocchi bene sulla pietra non c'ho micro non c'ho microscopio non c'ho lentine non c'ho niente quindi adesso mi devo affidare soprattutto alle sensazioni solo che sono le prime affidature e non e non so come sinceramente che cosa mi deve aspettare adesso sto mettendo il nastro ho letto visto su vari video che tutti dicevano di stare attenti a metterlo uniforme bello spartito tanto da una parte tanto dall'altra mi sembra mi sembra che ci sono riuscito mi sembra fatemi vedere un po tanto da una parte tanto dall'altra sì 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 stato bravo allora pure il nastro sembra messo bene levo un po di eccesso non so perché ma ho visto che lo fanno tutti faccio pure io adesso levo dalle scatole il nastro le forbici ecco qui quindi il rasoio l'ho preparato per poterlo affilare per affilare io lì mi sono adeguato a tutto quello colletto sembra che il minimo indispensabile per poter affilare un rasoio da zero sia avere due pietre una sintetica doppia faccia o due sintetiche una 3000 8000 o dicono tutti così la 3000 8000 e una naturale da finitura allora sapete che c'è io ho risparmiato come 3000 mi sono preso questa missarca che costa veramente 20 euro costa niente sono rimasto un po male perché è stretta e la lunghezza è bella però un po strettina speriamo che non speriamo di riuscirci ad affilare per bene poi visto che non avevo trovato la 3000 8000 eccetera eccetera la 8000 quindi ho preso due pietre la 8000 ho preso questo che questa che è un imanisci 8k quindi 8000 sono andato sulla via di mezzo forse un po più della via di mezzo perché tutte quelle straconsigliate lana niva prod qua della sinceramente costicchiavano tanto questa costa un po di meno ho letto le recensioni sembra sia buona pure questa per cui mi sono dato alla imanisci e alla fine ce l'ho qua poi ve la faccio vedere la classica ardesia dicono classica e per me tanto una vale l'altra è la prima comunque l'ardesia ligulo e l'ardesia in effetti è un bel pietrone mi arrivato bello grande nero nero e costa poco onestamente costa poco però dai andiamo perché sennò qui facciamo notte allora eccomi qua abbiamo detto ecco la miss arca è piccolina è strettina eccola qui messa sul supportino gli do una bagnata io ho scelto questa sia per risparmiare tanto 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 ma poi perché ho letto che questa marca qui c'era scritto nelle caratteristiche che la posso lasciare sempre nell'acqua ho pensato beh sai che è una bella comodità anzi che aspettare sempre i cinque dieci minuti che la pietra assorbe eccetera eccetera poterlo lasciare sempre dentro una bacinellina con l'acqua non è non è male allora a questo punto il rasoio eccolo qui la miss arca è questa però devo dire una cosa devo dire inizialmente sono rimasto un po' male perché qui ho scritto c'è scritto mille e io proprio le leggevo nelle descrizioni del venditore 3000 3000 3000 poi alla fine ho capito questa non è una 1000 qui c'è scritto F1000 quindi è sulla scala FEPA noi quando invece quando io leggevo vedevo i video su youtube e che parlavano di 3000 8000 la 10.000 1000 era sulla scala GIS sulla scala giapponese di riferimento ho trovato finalmente in rete una tabellina di conversione e ho scoperto che la FEPA sulla scala FEPA una 1000 corrisponde giusto giusto a una 3000 sulla scala GIS per cui meno male perché mi ero messo paura adesso devo fare la bisellatura storasuio come faccio se vado di questo sto fuori se l'inclino potrebbe essere però mamma mia quanto è scomodo lavorare quanto è scomodo lavorare con le pietre in questo modo allora intanto mi hanno detto di non fare il buffone fino a che non sono sicuro dei movimenti di usare tutte e due le mani io sono la prima filatura per cui tranquillo allora vediamo se riesco ecco sono andato leggermente in diagonale come avevo letto così sono partito che il tallone era dentro ma non prendevo bene la punta però poi mano 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 è entrata la punta è uscito il tallone anzi veramente è uscito tutto quindi sono partito da così per arrivare così non è difficile l'avevo letto tante volte diamo in quest'altro lato parto così e arrivo così e sì ci avevano ragione quelli che facevano i video e così intanto due mani è comodo due mani è comodissimo beh sì 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 mi sento sicuro sì no e prima che comincia ad affilare con una mano sola ci vorrà del tempo voi a te io per adesso continuo così allora poi a che cosa mi hanno detto di stare attento al rumore e alle vibrazioni allora le vibrazioni sono abbastanza contento perché non le sento sento che va tutto bello liscio liscio guarda si sporca e allora questo è quello che vedo dovrebbe essere l'acciaio del rasoio che viene mangiato ho capito ho capito allora questo significa che la pietra sta funzionando vedi io parto da una parte riesco con la punta e dove riesco si concentra la limatura mi piace questa cosa dai tutto sommato l'avevano ma avevano messo paura quelli che fanno i video c'è certa gente che madonna mia quante notte non sentite e aspettate un attimo eccolo eccomi stavo dicendo madonna quanto l'ho sentito c'è tanta gente anzi no c'è qualcuno che fa i video che secondo me si divertono a mettermi paura e no è difficile non lo fare se hai bisogno mandameli a me che te lo affilo io oddio io mi sento un po impacciato nei movimenti però sinceramente non mi sembra tutta sta disgrazia allora sento la pietra che si sta asciugando ho sentito che la pietra soprattutto la sintetica deve essere sempre bella bagnata e bisogna stare attenti perché dice dicono che le sintetiche tendono a saturarsi molto velocemente avevo sentito un'altra quando a filo devo stare attento di non scaricare troppa pressione sul dorso ma di cercare di concentrare la pressione sul filo facendo una torsione un movimento di torsione come se accelerassi col motorino vediamo un po oddio non è che mi viene proprio tanto istintivo mi sento molto imbranato a fare questa cosa però dai tutto sommato si fa senti però mi sento abbastanza annoiare monotono sto movimento ma se e se provassi a cambiare magari se facessi un po di avanti e indietro così io penso che sì che si dovrebbe fare prima male che va ho sminchiato il rasoietto da 20 euro speriamo di no c'ho solo questo però mi sembra il rumore è sempre buono è sempre leggero leggero la vibrazione pure sembra non esserci mi sembra che scorre abbastanza liscio mi piace pure così pure così non è male però è avanti indietro attenta quello attenta alla pressione attenta alla torsione sul filo insomma tra l'altro momento fa pure la chiacchierata parlo da solo come dice mi è un po difficile stare attenti a tutto vabbè dicono che poi ci farò la mano speriamo presto perché adesso attento a quello che vedo è sì perché mi hanno detto che devo stare attento pure al londina che faccio con l'acqua prima non la vedevo adesso che è carica di limatura sì adesso la vedo bene mi sembra mi sembra che londina ci sia su tutta la lunghezza sì sì ma allora so bravo più passa il tempo più più prendo tranquillità perché ma sinceramente c'è gente che è maledetta adesso ricambio rivado un altro po allora sempre con due mani non mi fate distrarre stavo dicendo mi sto calmando perché veramente in certi video ho beccato certe persone che si sono divertite proprio a mettermi paura allora però mi hanno detto che la bisellatura ho letto che la bisellatura è la parte più importante di tutta l'affilatura se non viene fatto un bel bevel all'inizio poi poi il problema si porta avanti per sempre allora mi conviene fare una cosa tanto la pietra sera stava anche asciugando mi conviene prendo un po di carta mi conviene asciugare il rasoio e cercare di capire se il lavoro è finito se sto lavorando bene allora non c'è un microscopio non c'è una lentina tutte cose che poi comprerò adesso ho comprato solamente le pietre e ho trovato una vecchia diamantata consumatissima poi mi sa che la uso allora c'ho c'ho sto rasoio allora sto bisellando e a occhio sinceramente non vedo nulla l'unica cosa che riesco a vedere che il filo si sta mantenendo il bevel si sta mantenendo uniforme non è non si è alzato da nessuna parte sono contento sembrava più difficile dai tutto sommato quindi il bevel io non so se riuscirò a farvelo vedere pure a voi ma sembra sottile e soprattutto uniforme su tutti e due lati vediamo giocando un po con la luce si 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 eccolo qua va bene oh mo che devo fare per capire lo devo passare sull'unghia per vedere se scorre liscio se ci sono dentinia io ci provo liscio e lo sento adesivo un po fa un po di resistenza all'avanzamento e poi mi hanno detto che già deve tagliare dopo la bisellatura per cui mi devo spazzolare i peli del braccio però senza far toccare il rasoio ma io mica sono capace a fare questa cosa allora devo prendere l'avambraccio devo prendere il rasoio e lo devo spazzolare e ancora sono pochi qualche peletto è caduto ci riprovo qualche peletto è caduto ma ancora non ci siamo e allora già che ci so continuo che problema c'è e vai adesso superato superato il primo impatto io sono contento dai sono contento ci voglio mettere il tempo che serve perché se è vero che sta bisellatura maledetta è mezza affilatura è rimasto un peletto è mezza affilatura io continuo a fare un po su e giù così perché mi sembra che così la pietra andava un po più veloce ho visto più limatura speriamo che non si sia saturata troppo che mi hanno detto che quando la pietra si riempie il piatto della pietra si riempie di limatura la pietra comincia a rallentare allora a me sembra che la limatura ancora ci sia però lo sapete com'è loro la fanno facile hanno affilato mille mila rasoio e loro lo sanno ma per me per me è tutto nuovo e tutto strano vediamo un po' eh sì mi sembra che va bene se è sempre questo peletto maledetto che non vuole morire allora facciamo un po' di movimenti dritti cioè dritti un po' uscire così magari faccio un bevel più ordinato vediamo se eh sì sì mi sembra che siamo a buon punto e allora devo riprovare di nuovo allora devo riprovare di nuovo asciugo un po' il rasoio vediamo se se sono riuscito a fare qualche altra cosa sempre il bracciotto sento i peli che si strappano eh però eccoli qua adesso li vedo ripasso un'altra volta che non si sa mai oh sì 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 oh porca miseria eh un minuto neanche di differenza eh com'è cambiato il bevel com'è cambiato adesso taglia ah mi piace questa cosa allora senti io ho paura a stare troppo sulle pietre sai che c'è io questo lo levo e a questo punto così come ho letto mi vado a prendere subito subito la pietra da ottomina allora tante altre mi hanno detto che fatta la bisellatura il grosso eh è già stato fatto allora questa quando l'ho comprata c'era scritto splash and go quindi non ha bisogno di di ammollo però io nel frattempo faccio una fumatina oh questa è molto più larga ah guarda qui eh qui allora posso andare anche dritto no 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 aspetta mi hanno detto mi hanno detto di non andare mai sempre dritto 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 perché se la pietra non è perfettamente in piano se c'è qualche avvallamento poi quando ci fa passare il rasoio non tocca in quel punto e una volta due tre e poi il bevel non è più uniforme allora dice anche se la pietra te lo permette i movimenti sempre un pochettino ad uscire così da essere sicuri che tutto il filo a ogni passaggio abbia toccato me mi pare tanto strana sta cosa intanto fammi rimette la seconda mano se il padre eterno me ne ha date due a qualche cosa serviranno sì 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 no io continuo a fare i movimenti a uscire eh anche perché voglio prendere l'abitudine la voglio prendere subito l'abitudine poi mi piacerebbe mi piacerebbe fare come ho visto fare tante volte ci stanno ci stanno quelli che affilano che fanno i cerchietti con il rasoio però con due mani oddio si riesce lo stesso però è un po' scomodo vediamo se in quest'altro verso pure si riesce eh no si può fare ma fare i cerchietti con due mani eh non è non è né molto pratico né molto bello allora aspetto a fare i movimenti strani sai che c'è voglio fare la persona per bene non voglio rischiare voglio voglio cercare solo di fare una buona affilatura una buona io mi accontenterei che alla fine della fine il rasoio taglia ah ma io insisto sono proprio contento madonna mi sono seduto davanti alle pietre alla prima affilatura con una paura che mi si portava avevo letto avevo visto ma soprattutto i video c'è qualcuno che ti dice vai provaci vai tranquillo è più facile c'è uno che dice sempre che alla fine si tratta di strofinare un pezzo di ferro sopra una pietra e alla fine c'ha ragione ma ne ho trovati tanti oh oh bisogna mettere l'acqua questa pietra mi sa che si satura più velocemente di quell'altra eh si vede che ogni pietra fa storia a sé che ti stavo dicendo mi sono seduto qua alla prima affilatura morto di paura ma tutto sommato ma tutto sommato non è difficilissimo beh oddio poi ci vorrà esperienza poi ci vorrà credo che dovrò migliorare anche un po' l'attrezzatura non ho niente per poter controllare per bene anche se anche se aspetta però aspetta eh no non è vero che non c'ho niente perché l'ho visto i video di quelli bravi dice che il Padre Terro ci ha dato i sensi eh usiamo quelli allora vedo tanta gente che ci passa anche il pollice sopra ho visto eh sento il grano del filo però non sento un grano rasposo sento un c'è una sensazione di granellini non il grano il granello della sabbia come ce l'hai al mare sulla pelle è un granellino fino 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 è difficile a spiegarlo raspa un po' ma è come se avessi trovato una sega con i denti fini 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 ravvicinati ravvicinati eh una bella sensazione e poi c'è ancora il pollicione eh va bene adesso è molto meno adesivo scorre liscio ma scorre meno frenato io penso che ci sarà ancora da lavorare un pochettino è che purtroppo non ho punti di riferimento non so regolarmi su su quando è finito dall'affilatura o se invece manca ancora devo stare più tempo sulle pietre vabbè però mi hanno detto oh betta eccolo però mi hanno detto di non preoccuparmi perché quello via via con l'affilatura eh migliorerò da solo beh è chiaro devo fare un po' d'esperienza prima vedo l'ora di staccare sta mano per poter affilare con una mano sola ma mica per fare lo splendido è perché è più comodo però certo così riesco riesco a dosare meglio la pressione uniformemente con due mani mi rendo proprio conto se sto premendo di più in coda se sto premendo di più in punta io penso che però comunque potrebbe anche andare bene vogliamo voglio vedere se è migliorato il taglio dei peli dell'avambraccio voglio fare una prova così intanto comunque con la scusa pulisco un po' il rasoio oh ma non me ne era accorto guarda via ripulire il rasoio quanta limatura quanta limatura si è fatta allora ho asciugato il rasoio adesso rifaccio la stessa prova sull'avambraccio allora senza fare toccare il filo eccolo ancora non è taglientissimo io un paio di minuti ancora ci starei è che c'ho paura di mangiarmi c'ho paura di mangiarmi troppo troppo materiale no no aspetta mi hanno detto che la 8000 è già una pietra da lucidatura mannaggia tutti i pezzetti di peletti che rimangono dopo fatto il test guarda guarda maledetti maledetto eppure non li vedo sul rasoio i misteri dell'affilatura stanno dicendo mi hanno detto che bisogna stare molto attenti con le pietre più grossolane perché quelle mangiano tanto materiale invece con con le pietre di questo grit si sono sintetiche mangiano però in effetti la limatura si produce però non velocemente non tanta come ho visto con la pietra da 3000 mi sa che c'avevano ragione ecco qua sentite io ho troppa voglia di prendere in mano la pietra naturale pietra naturale ahhh 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 vi devo dire una cosa io l'ho letto e l'ho fatto stamattina prima di cominciare l'affilatura ho cercato di spianare tutte le pietre perché poi mi sono accorto che pure appena comprate che sembrano tutte belle belle fatte bene ma lo sapete che non stanno in piano sembra un piano però quando le sono andate le ho spianate con una vecchia diamantata ho usato quella mi sono accorto che in piano non erano quindi questa è un'altra cosa ho fatto bene ho fatto bene a dare retta ecco qua io mi fermerei ci vuole un altro pochino d'acqua io mi fermerei che ho una voglia ho una voglia di provare la pietra naturale si è bello affilare sulle sintetiche però sono curioso sono curioso tanto di vedere che effetto fa a mettere un rasoio su una pietra naturale la sintetica devo dire che dà sicurezza che sai perfettamente che pietra è leggi le caratteristiche del costruttore invece ho sempre sentito ho sempre visto nei video le pietre naturali ognuno fa storia a sé ognuno fa storia a sé ognuno fa storia a sé che vuol dire? boh speriamo bene ma che prendo la mia poi intanto sono contento perché ho preso una bella ardesia nera mi è arrivato un pietrone più grande di questa bella bella tutto sommato ho pagato proprio poco ho pagato meno la pietra naturale che la pietra sintetica dai io mi sono stufato lo so scusate non lo dovrei fare allora l'ardesia eccola qua la tenevo un pochettino a bagno perché pure lì mi hanno detto che le ardesie se mi vede un amico mio mi ammazza guardate il segno c'è il segno della spianatura e allora non l'ho spianata tutta sta pietra ho spianato solamente questa parte guardate come si vede bene dove è spianata e dove no incredibile non me lo sarei mai aspettato nooo mo se mi vede se mi vede Mauro se mi vede l'amministratore del gruppo dove mi sono iscritto madonna quante me ne dice però sapete che c'è allora io vedo dal segno che questa zona è sicuramente spianata io uso questa ma uso solamente cerco di tenere il rasoio solo dentro a quello vale però voi non lo fate non lo fate perché se no poi dice ma ho visto un video su youtube dove c'era una persona che ha fatto così non si fa anzi sapete che faccio per accelerare un po' anzi 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 vedi quante cose bisogna quante cose bisogna ricordarsi all'inizio non vedo l'ora di fare un po' più di esperienza io faccio una cosa intanto la pulisco sta pietra che stava a mollo ma forse l'acqua non era tanto tanto pulita allora faccio così rimetto la pietra sul supporto eh guardate come si vede bene dove sono passate e dove no e poi ecco mi hanno detto che le ardesie con un po' di sospensione sopra migliorano migliorano un po' diventano più fine sono strane le ardesie perché anziché diventare più grossolane come la maggior parte delle pietre quando vengono usate a sospensione dice che un filo di di sospensione sull'ardesia migliora la fa migliorare allora eh tanto accuso cerco di stare sempre nell'ovale maledetto madonna che vergogna eh fammi fammi usare sempre le due mani come al solito ah però che bello usare le pietre naturali uh già sento la differenza è difficile da spiegare ma rispetto a quello che sentivo prima sulla pietra sintetica la pietra naturale è è più felpata è più dolce c'ha un altro rumore è più cicciotto più meno acuto ecco vibrazioni proprio zero ma proprio vibrazioni zero ma hanno detto che l'ardesia non è una pietra velocissima dice che è una pietra dolce è una pietra che fa fili morbidi che fa fili eh che non irritano la pelle però lo scotto da pagare è che non è tanto veloce beh sapete che c'è io di fretta non vado e poi se una pietra fine veloce mi costa un capitale una pietra fine ma non veloce mi costa poco eh io per il momento mi accontento di questa anche perché devo sacrificare la la velocità ma mi hanno detto tutti 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 che non devo sacrificare la finezza della pietra e sembra che questa pietra ligure si possa tranquillamente classificare come pietra molto fine una bella pietra naturale alla finitura o per la quarantina d'euro ma io già se oggi riesco a farmi la barba col primo rasoio affilato da me ma voi non sapete quanto sarei contento mi sto accorgendo che la sospensione mano a mano che vado avanti sembra leggermente più cremosa è come se se migliorasse ad ogni passaggio eh però aspetta mo sto facendo un'altra su adonna quanta roba che c'è da pensare mi hanno detto ma io poi insisto a dire mi hanno detto ho letto perché ho studiato prima di fare la prima affilatura che adesso in finitura devo alleggerire molto il peso non devo più sgrattugiare come un forzennato ma devo andare con la mano leggera perché più premo e più lascio segni sopra il bevel invece in questo modo con la mano leggera dovrebbe venire un filo ancora migliore io continuo a fare l'unico movimento che fino adesso sembra che mi venga un pochettino meglio si 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 due mani leggermente a uscire anzi tutta uscire provia x anche perché ho fatta la fesseria non l'ho non l'ho lappata bene quindi devo rimanere per forza al centro della pietra e devo cercare di farmelo bastare per tutta la lunghezza del filo quell'ovale purtroppo mezza pietra davanti e mezza pietra dietro non la posso usare più ok non sembra che sta diventando un pochettino troppo un pochettino troppo denso allora sai che faccio gliene levo un po' gliene levo un po' e allungo quello che rimane con l'acqua ho sempre sentito dire vado a diluizione vado a diluizione vado a diluizione o chissà che mi sembrava e invece praticamente ho lasciato solamente poco poco poca poca polvere di pietra nell'acqua tutto lì continuo ad andare pianin pianino eh se io capisco che l'ardese è lenta però come mi regolo come al solito pulisco il rasoio e faccio i soliti test che devo fare io ci riprovo scorre liscio va bene eh sento sempre quel raspettino ma adesso è ancora è ancora più fine quel quel graffietto che mi fa sul pollice quasi non graffia più eh è carina sta cosa senti facciamo una cosa visto che tutte le volte che mi sono fermato poi ci ha sempre voluto un po' di più mo mi faccio un altro paio di minuti ma anche di meno di passaggi sulla pietra e poi provo di nuovo sul braccio sempre non a contatto ho sempre visto sui filmati youtube non imbrogliate eh beh ma è certo uno che fa imbroglia poi si mette il rasoio in faccia e si fa male no 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 che imbrogli hanno detto che per tagliare bene deve tagliare non a contatto con la pelle deve tagliare i peli dell'avambraccio solo a sfioramento e io così voglio fare oggi allora vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' e poi coramella coramella ne ho preso una tranquilla di cuoio eh ho visto che ce ne stanno di tantissime meravigliose però pure lì tutti quanti nei video nei post nei gruppi tutti a dare lo stesso consiglio compra la discreta ma non ci spendere tanti soldi perché all'inizio sarà facilissimo tagliarla dice ci siamo passati tutti boh eh io spero di non passarci però se le cose stanno così comunque io ho dato retta eh ho preso una coramella in cuoio naturale senza pelle strana senza finiture bellissime perché mi dispiacerebbe tagliarla e visto che pare che succede perché succede allora voglio fare le ultime passate con la pietra molto bagnata e con pochissima sospensione l'hanno detto tutti quanti e lo voglio fare facciamo proprio mi sta venendo voglia di contare uno due eh ma mi hanno detto sempre di non contare perché dice se uno conta non capisce non si concentra sulla pietra dice io devo imparare a conoscere le mie pietre eh io per adesso non la conosco posso solo dire che è bella che mi piace tanto che che mi piace strofinarsi il rasoglio sopra perché è liscia liscia è felpata non fa rumore metallico eh non capisco perché costa poco sta pietra vabbè immagino che quelle che costano di più saranno anche migliori non lo so non avendo non avendo altre pietre da finitura sinceramente non lo so ah sto sentendo che il rasoio adesso scorre un po' di meno un po' frenato è come se ci fosse ah 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 quello che chiamano effetto ventosa che io boh non ho mai capito ma che è sto effetto ventosa eccolo praticamente è come se il filo rimanesse un po' appiccicato vediamo vediamo un po' eh sì in effetti non è tantissimo devo dire però rispetto a quando ho cominciato rispetto a quando ho cominciato adesso la lama è come se fosse più attaccata al rasoio sì che senti che cavolata che ho detto è come se la lama fosse più attaccata alla pietra ad ogni passaggio rimane più frenata oh io mi sono stufato io mi sono stufato lo so che la pietra è lenta e che ci vuole tanta pazienza ma io la devo provare io la devo provare allora sai che c'è che qua se no con lo scuro non si vede niente allora prendo un bel pezzetto di carta anzi due pezzetti perché con uno ci pulisco meglio il rasoio allora con uno ci pulisco per bene il rasoio eccolo qua poi mi sposto un po' la pietra da una parte asciugo un po' il tavolo che ho fatto un inguacchio meno male che ci ho messo sto coso di linoleum sopra così non si incavolano mogli non si rovina niente ma prendo questo pezzo di carta bianca e faccio di nuovo la prova metto il mio bel bracciotto bel bello metto il bracciotto cerco di non fare toccare gringo gringo guardate qua ma la raso bravo dai allora non è difficile affinare un rasoio tutto sommato tra le ghiacchierette che ho fatto una cosa un'altra tre quarti d'ora quindi forse di lavoro effettivo una mezz'oretta ma allora sono forti allora aspettate ecco il rasoio e eccomi qua giù la maschera basta fare il principiante perché ho fatto questo video ho fatto sto video per così all'insegna dell'ottimismo per far vedere a tante persone che sono alle prime armi che non serve la pietra magica che non serve vendersi un rene che i consigli che vengono dati nei forum nei gruppi di solito sono sempre quelli giusti il consiglio per eccellenza prendi un rasoio cerca di prenderlo in buona geometria vedete che io oggi non ho misurato non ho calcolato non ho usato il microscopio che c'è lo vedete acceso non ho misurato ho usato gli occhi ho scelto un rasoio con un filo uniforme con le coste uniformi e tanto basta in affilatura ho cercato di usare i pollicioni ho cercato di usare le unghie ho cercato di vedere se magari anche strappando ma già dopo la bisellatura i peli venivano recisi ripeto non a contatto sempre accarezzando dopo di che ho usato la seconda pietra che si consiglia sempre quindi le due sintetiche o la sintetica doppia faccia la famosa il consiglio è sempre quello 3000 8000 è una naturale da finitura perché finire sulle sintetiche va anche bene però bisogna avere il pellacchione poco sensibile perché sono fili abbastanza grudi secondo me non molto confortevoli però c'è tanta gente che che usa il rasoio finito su sintetica per cui visto che radersi deve essere un piacere contenti loro contenti tutti dopodiché la pietra da finitura italianissima a quattro soldi l'ardese e l'igure ragazzi adesso vi spiego un piccolo segreto in realtà ho usato il retro della pietra proprio per fare questa mattina prima di fare il video sono andato a spianare la pietra ma a spianare il retro della pietra e l'ho fatto volontariamente perché in realtà io uso quest'altro lato e questo era già spianato perché mi serviva mi serviva dove 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 eccolo qui adesso da asciutto si vede di meno perché perché mi serviva la scusa per far capire quanto è importante che le pietre siano sempre perfettamente manutenzionate che siano sempre perfettamente in piano per cui ho voluto creare solamente un'area vedete qui in cinque minuti sarebbe stata lappata tutta correttamente ma così almeno si può vedere la differenza e per far capire quanto è importante mi sono concentrato nei movimenti di sole soltanto nella zona che sicuramente era in piano senza mandare la lama né troppo in alto né troppo in basso quindi mi serviva la scusa visiva per farvi capire che l'unica pietra da usare l'unico tipo di pietra da usare è una pietra perfettamente lappata una volta che avete una pietra perfettamente in piano lappata la pietra darà sicuramente il meglio che c'è e adesso una piccola sorpresa allora il rasoio è pronto a questo punto andrebbe solamente scoramellato ma io il microscopio ce l'ho vogliamo vedere che succede per noi l'affilatura è finita adesso i sensi mi hanno detto una cosa vogliamo vedere se il microscopio conferma o non conferma guardate voi sapete che io i video non li taglio non li monto ecco che cosa mi hanno detto i sensi ecco che cosa mi hanno detto i polpastrelli prima che cominciate a dire beh però abbiamo visto di meglio 8x4 questi sono 320 ingrandimenti ottici quindi prima che facciamo tutti i bravi facciamo tutti i seri calcolate che questo è un ingrandimento mortale calcolate guardate pure l'uniformità calcolate aspettate non è facile prendo un po' di messa a fuoco quindi 320 ingrandimenti ottici calcolate che a questo risultato potevo stare 10 minuti di più sulle pietre soprattutto sulla sull'ardesia ligure l'ardesia ligure non fa satinatura con tutto che avete visto è stata usata con la sospensione ma vedete i marchi d'affilatura come sono ben presenti guardate quel filo che ancora deve essere scoramellato a questi risultati ci si arriva tranquillamente utilizzando i 5 sensi utilizzando il suono le orecchie l'udito per sentire il suono che fa l'acciaio sulla pietra utilizzando il tatto per sentire le vibrazioni eventuali vibrazioni della lama una vibrazione non è mai un segnale positivo sempre al tatto sentire con le cresse del polpastrello che tipo di filo si sta creando se è dolce se è aggraziato o se è troppo aggressivo con le unghie per vedere per sentire se ci sono chip se ci sono sbeccatorine perché in quel punto il rasoio avrebbe fatto un saltello quindi ve lo faccio vedere solo per l'ultima volta è stata una sorpresa per tutte e due per me e per voi avete visto che tutta l'operazione è stata fatta senza tecnologia senza neanche una lentina e sapete che ce l'ho quindi mi sono voluto mettere nel nei panni di un principiante al suo primo rasoio alla sua prima affidatura con le uniche tre pietre che è riuscito a comprare il classico consiglio 3000 8000 naturale da finitura in tutto questo cercando anche di andare al risparmio perché la 3000 missarca è una grande pietra ma lì c'è la 3000 nano on altro livello la potevo tirare fuori ma poi ho pensato un principiante difficilmente parte a spendere la naturale di finitura sapete benissimo la mia passione per le giapponesi avrei potuto prendere la sante benedetta la nagayama di pregio la sciobutani di pregio artesi e ligure perché questa viene consigliata e su questa si lavora date tranquilli che con questa affilatura più un po' di coramella questa barba si taglia si taglia alla grande quindi non insisto di più perché sono passati 55 minuti scusatemi il giochino ho voluto ritornare principiante per una volta ma l'ho fatto per dare fiducia per dare un'iniezione di fiducia a tutti quelli che stanno all'inizio a tutti quelli che approcciano andate andate tranquilli andate sereni le cose fondamentali da mettere in pratica avete visto l'affilatura con le due mani il movimento leggermente a uscire la pietra ben pulita una pietra da finitura ecco questi sono i pochissimi principi con cui si inizia ad affilare e state tranquilli che il risultato arriva quindi detto questo dove sta eccolo qua io vi faccio un salutone vi auguro una buona domenica e quindi ciao popolo alla prossima